Dottore, ho un problema, avverto un forte dolore, se mi tocco tipo qui, aia, qui, o qui, o qui, o qui, ogni volta, aia, questo dolore è veramente persistente, cosa potrebbe essere secondo lei? Le faccio male se la tocco qui? No, qui, no, qui, no, qui, no, qui. Neppure? Lei ha il dito fratturato. Dottore, ho un periodo che mi sento stanchissimo. Che ritmi ha la sua attività sessuale? Ma non lo so, un tre volte al massimo al giorno con mia moglie. Ha rapporti solo con sua moglie? Beh, no, ecco, vede, ho una relazione extraconiugale anche con la donna di servizio. Tutto qui? No, poi sai, in ufficio con la segretaria e le colleghe. Mi sembra tutto chiaro, lei sta avendo troppi rapporti sessuali. Oddio, meno male, io che pensavo che fosse la masturbazione. Dottore, mi scusi, ogni volta che avevo un caffè ho un forte dolore all'occhio. Ha provato a tirar via il cucchiaino? Dottore, ho un problema, mia moglie crede di essere me. E me la porti qui. Ma sono davanti a lei, dottore. Eh, dottore, mi scusi, sa dirmi cos'è la bile? Non posso dirglielo. Perché? È un secreto. Dottore, mi scusi, cos'è che era? Sagittario, vergine, capricorno? Cancro. Scusi, grazie. Grazie. Grazie.